Milioni di italiani sono chiusi in casa da mesi. Di che cosa si occupa il governo? Di una maxi sanatoria per oltre 300.000 immigrati clandestini. Non regolarizzare queste persone significa essere i protagonisti principali della diffusione dell'illegalità. Il solo annuncio della sanatoria sta moltiplicando gli sbarchi in Italia in queste ore. Un governo non può non risolvere questa contraddizione. Se non risolve questa contraddizione è evidente che persone come me non sono utili nella loro funzione. Il governo con il PCM ci dà un pezzo di stoffa. Dopodiché ogni regione è giusto che faccia in modo di cucinare in maniera tale che venga fuori un abito su misura. Io sono felice che un uomo della Lega sia più apprezzato di tanti ministri. Io Luca Zaia, come gli altri governatori, lo sento tutti i giorni. Mi sembra che gli italiani stiano dimostrando di aver capito il rischio che si corre. Lei preferisce che la Russia la regaliamo alla Cina? Siamo ripartiti con tutte le accortezze. Sarebbe meglio che il governo risolvesse i problemi. È inimmaginabile che questa battaglia si vinca solo con un'impostazione di natura securitaria. Ma non possiamo rilassarci, neanche per una settimana, perché se facciamo questi controlli ossessivi stiamo tutti quanti più tranquilli.